Armarsi di sola pazienza non sempre basta, gli oltreottantenni ai fragili in fila davanti al palauda di Chieti per la somministrazione del vaccino anticovid. E così c'è qualcuno che da casa si porta anche la sedia perché l'attesa può essere davvero tanta. Come è accaduto anche ieri con la gente in coda davanti al centro vaccinale universitario per un problema tecnico di sovrapposizione tra i dati contenuti sulla piattaforma della regione e quelli delle poste prima che la gestione delle prenotazioni dei vaccini fosse affidata a queste ultime. Risultato fuori dal palauda già interrabbiata in fila e dentro linee di vaccinazione e sovraccariche di lavoro in più da smaltire tanto che oggi il problema è stato anche al centro dell'incontro che si è svolto tra gli altri tra il prefetto di Chieti Armando Forgione, il sindaco Diego Ferrara e il direttore generale della ASL di Lanciano Vasto Chieti Thomas Schell. Dall'azienda sanitaria fanno sapere che il problema di natura puramente tecnica della sovrapposizione dei dati delle due piattaforme sarà risolto il prima possibile dai tecnici della regione e di poste italiane ma intanto il personale del CUP è già all'opera per riprogrammare telefonicamente le prenotazioni doppie e assegnarne di nuove. Inoltre per smaltire le lunghe fili all'interno del centro vaccinale del palauda alle tre linee di accettazione amministrativa se ne è subito aggiunta un'altra per velocizzare le pratiche burocratiche e presto ne sarà aperta anche un'altra. Stesso discorso per la somministrazione dei vaccini con l'aggiunta di due linee in più rispetto alle cinque già esistenti al fine di procedere senza ulteriori ritardi. Una mano tesa per decongestionare il centro vaccinale universitario arriva anche dal sindaco Diego Ferrara che propone l'apertura di un altro centro vaccinale su Chieti oltre ai due già attivi al palauda e al vecchio ospedale individuando una possibile sede nel palazzetto di Colle dell'Ara. Questa sede è il palazzetto dello sport di Colle dell'Ara che da settimane o se non da mesi noi stiamo offrendo al direttore generale come ulteriore sede logistica ma non solo per velocizzare le vaccinazioni perché poi dipende molto anche dalla disponibilità dei vaccini ma anche per decongestionare quindi fra qualche settimana si spera arriveranno arriverà un numero notevole di vaccini e il direttore generale non ha altro che da telefonarmi e il palazzetto sarà aperto per tutte le esigenze dei cittadini.